Ah comunque ragazzi per chi non lo sapesse che mi è arrivata la nuova webcam Dovevo farvi vedere questo Allora lo faccio al prossimo game in casa Ok riesco a farlo recente Ok Scusate Ah Però posso fare cose fighe Si è droppato In questo genere che il mouse è troppo superiore Eh si Secondo me è proprio a mani basse Mi sta raccando parecchio però il gioco ragazzi Sto a 60 fps Non credo di riuscire a hittarlo Cosa cazzo ha fatto Mi sembra stranamente veloce sto tipo Comunque Però che tanto gioca Vabbè ma ci sta ci sta Spero che un mio amico ha Phasma ma non gioca A Giugni dice di essere passato alla play piuttosto che al pc PC master race Mani basse proprio non so se arrivo nel basement Unlucky Uh stipend di poco Allora il basement è tanta roba Il basement è tanta roba Eh ma giocarci ogni tanto è diverso dal Dire La play è meglio secondo me Per me il controller è comodo Su determinati giochi su cui puoi giocare col controller È comodo però Tutto vale che gli tosso punto Boom Il problema di questa mappa è struttura le proprie finestre che esistono Tornassi dietro Eh immagino Il pc è vero Secondo me è veramente troppo troppo superiore su tutto Prestazioni Però il problema è che costa di più Un pc che è meglio di una play 5 costa di più Però è superiore in tutto alla fine Ma di brutto proprio In realtà no Forse non ti serve così tanto Headshot Andiamo a lookarlo lo stesso dai La sua risata La sua voce Double look vicino tra l'altro Però ho solo 4 coltellini E non mi bastano per Shot the record Mi sa questo Sfruttiamo della cagata che ha fatto sto tipo Devo calcolare Devo caricare i coltellini assolutamente Suo cuore Eh oddio Suo cuore non so quanto sia Vivo Non so neanche se è Se è un personaggio vivo Tra virgolette Salve signore 2, 3, 4, 5 Oh meno male ho messato l'ultimo Aveva balance landing Dove per far settarlo Non riusciva a farlo Oh Cosa Questa è sapere cosa non mi serviva Un cuore che sta più giù Vabbè A parte non mi serviva quello per vedere attraverso i muori Ok, due a questo Due a Calvin C'è qualcuno che è andato lì a destra Adesso lo uccidiamo Se non esce dalla parte opposta Però non mi sembra di vederlo uscire Perfetto, questo è morto Dead on hook Perché sono altri coltellini? Non lo so Magari mi dà più punti Vedo da questa Mi fa a sapere che sono Da una parte o dall'altra Non mi bastano i coltellini sfortunatamente Però non dovrebbe riuscire ad arrivare Alla finestra Era un attimo concentrato, scusate Ho fatto un minutino di silenzio Ah, ci è arrivata tranquillamente la finestra Speravo di riuscire a betarla In realtà sopra Eh, sopra in un sacco di tempo Che si è buttato di qua Sai che c'è No, dei miei tre Trigen che c'è Distrugiamo solo il totem Giusto per Fargli il caso perdere tempo Andiamo a difendere Jan Più importante A sto punto difendere Jan Con uno morto Se perdo Chase dietro una Che tanto è lontano dai generatori Lo lì è quasi finito di Jan Esatto, immagino Quella lì non l'ho mai uccata Sì, ci arrivo tranquillamente Va Mi sapete dire se Quando giochi contro il Il trickster Con questo add-on Ti fa sapere che sei exposed Quando hai 5 o 6 coltellini Se gli dà la notifica Proprio che sono exposed Sì, ok E calciamo il Jan Ti fa sapere Ok, ok, grazie Devo difendere questi 3 gen O questi 3 gen Comunque Diciamo che Questi due centrali Sono fondamentali Da difendere prima Sto sprecando tutti Vediamo se riusciamo Eh, ma questa zona è veramente La peggiore Non mi ricordo se devono essere 5 o 6 Onestamente Niente, ho già finito i proiettili Ok Perché dice 5 o 6 Però non mi ricordo se dice Se Effettivamente è vero Perché mi pareva di aver visto Che non era così una volta Che l'avevo aiutato 5 volte Basta che guardi l'icona Quando si illumina e basta, giusto? Perché io mi ricordo che c'era scritto 5 o 6 Però mi ricordo anche che Non era vero quello che c'era scritto Perché l'avevo testato una volta Però magari era solo buggato O ho fatto qualcosa di sbagliato Eh Ci può anche stare Quando diventa rossa, giusto? E basta Questi hanno iniziato due giorni diversi Ok Parco 2 all'ultimo Nice 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 Preso Come vai? Bom Questo l'andiamo Non so quale No, non devo carlo Signor Snake Magari Fare la sagona delle vittime Non è un buon modo di uccidere Allora Signor Umas Lei chi è Per dire questa cosa? Come fa a saperlo? Allora Uno lo uccidiamo E l'altro lo slagghiamo Mentre cerchiamo l'ultimo Tra l'altro Credo che sia qui Secondo me è qui in un Ah Peccata Lo sapevo fortissimo Che stava in un locker Perché ci stava quello And that's how You outplay the player Non so cosa sto dicendo Raga Scusatemi Parlo per esperienza Allora va bene Coltellino in mezzo alle tette Dove sono? Mi sono perso in casa Mi sono perso la strada Ma dove vai? Deccati son de tuble E for me Tecnicamente dovrebbe essere abbastanza Per essere un adept Questa Easy Scusate Non mi diverterò mai abbastanza Con sta cagata